Civil Week 2024, Cascina Sant'Ambrogio, anche eventi che parlano di un tema che, tra parentesi, guardate che sta diventando super di moda perché è l'uncinetto, ma voi andate mai in metropolitane quante ragazze fanno l'uncinetto, è vero? Sì, è un'attività manuale che è tornata molto di moda. Abbiamo il piacere di essere qui con... Ivana Appolloni, sono direttrice generale dell'associazione Gomitolo Rosa. Gomitolo Rosa, ecco la responsabile della... Biblioteca Sant'Ambrogio. Perfetto, allora, Gomitolo Rosa, cosa fate, di cosa vi occupate? Il nome fa abbastanza intendere i complimenti perché è facile, servono di nomi semplici, aiutano molto noi giornalisti che abbiamo voglia di studiare. Cosa fate però operativamente e per chi? Gomitolo Rosa si occupa di promuovere il lavoro a maglia nelle unità oncologiche italiane come strumento terapeutico per ripristinare l'equilibrio psicofisico delle pazienti. Siamo oggi in 30 unità oncologiche e i manufatti che realizziamo li doniamo per la solidarietà sociale. Abbiamo anche un vastissimo gruppo di volontari che realizzano i manufatti, compreso appunto il gruppo che qui abbiamo all'interno di questa biblioteca, e questi manufatti noi li portiamo alle persone in stato di fragilità, quindi anziani, bambini, pazienti, disabili, questa è la nostra attività civica. Quindi se ho capito bene, appunto per la Civil Week come al solito noi ci accorgiamo di qualcosa che in realtà però c'è già da tempo. Sì, questo gruppo che si è formato ormai da tre anni, che è nato in epoca post-Covid e quindi con tanto desiderio di incontrarsi prima di tutto, e poi ha voluto mettere un po' a frutto le proprie abilità creando dei manufatti da donare a delle persone che erano in fragilità. E con questo scopo siamo un po' entrati in contatto con una realtà appunto sorprendentemente grande di tante persone che si occupano di lavori manuali, di uncinetto in particolare, e quindi ci siamo accorti che anche il matrimonio, biblioteca, uncinetto, era un matrimonio felice. Abbiamo scoperto quindi questa associazione nazionale Gomitolo Rosa, ci siamo messi in contatti con loro e abbiamo collaborato nel nostro piccolo ad alcuni microprogetti che ogni anno l'associazione lancia in tutta l'Italia. E quindi abbiamo deciso di approfondire un po' il tema dal punto di vista proprio un po' delle conoscenze e dei contenuti al di là del lavoro manuale, cioè capire un po' perché di fatto si stava bene quando si lavora all'uncinetto e lo si fa insieme. Infatti, per questa domanda, come si spiega questa funzione terapeutica dell'uncinetto? Allora, che il lavoro a maglia faccia bene lo sappiamo, c'è un vastissimo racconto anedotico di tutto questo. Gomitolo Rosa ha voluto dare anche un'evidenza scientifica ai benefici del lavoro a maglia incaricando l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano di sottoporre ad elettroencefalogramma delle persone che prima e dopo il lavoro a maglia. E grazie a questa ricerca abbiamo scoperto che il lavoro a maglia aumenta l'allerta e l'attenzione e la concentrazione delle persone. Ah, ecco cosa dovevo fare da piccolo invece. Ormai è troppo tardi. No, no, è troppo tardi, anzi non si può salvare. No, no, assolutamente non è mai troppo tardi. Tra l'altro è assolutamente semplice iniziare a lavorare a maglia e poi all'uncinetto in particolare. E infatti adesso faccio una domanda per mia moglie che ci ascolta da casa. I ferri vanno bene lo stesso o quelli lì sono un po' più schifate? No, 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 non schifiamo nessuno. Ah, ok, va bene, ok. Non schifiamo nessuno, assolutamente. Ok, no, povera Erika, non volevo vedere. Quindi per noi il lavoro a maglia è sia ferri dritti che uncinetto perché comunque sono maglie, maglie che si susseguono e che riescono a creare dei progetti meravigliosi. Perfetto, allora se volete saperne di più appunto cercate tutte le informazioni che potete trovare. gomitolorosa.org è il nostro sito web. Non ho dovuto anche fare una domanda, è bastato passare, capito benissimo, oppure fate un giro qui alla biblioteca, no? Sì, abbiamo anche noi una pagina, un sito, quindi abbiamo un sito di tutte le biblioteche di Milano, milano.biblioteche.it e all'interno di questo sito ci sono le pagine delle diverse biblioteche e diverse biblioteche hanno dedicato uno spazio al lavoro a maglia. Questa è la Civil Week, si scopre tante cose, come dicevo, cosa che magari ci sono già durante l'anno ma magari siamo un po' distratti, passiamo velocemente, tiriamo dritto, abbiamo sempre le nostre cose, le nostre faccende che ci affaccendano e invece è bene che nella Civil Week si possa scoprire ancora di più il territorio, la città e tutto quello che la anima. Questa è la Civil Week 2024.